Restiamo in Liguria a lutto nel mondo della sanità, nella comunità del Policlinico San Martino di Genova. È morto per un malore improvviso il direttore generale Salvatore Giuffrida Savonese, laureato in scienze politiche ad indirizzo amministrativo presso l'Università degli Studi di Genova, avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. Il 1 gennaio 2021 era arrivato in forze al San Martino dall'Asla 2 di Savona. La direzione sanitaria ne ha annunciato il decesso, stringendosi insieme ai dipendenti attorno ai familiari di Salvatore Giuffrida, che lascia la moglie e un figlio. Oggi è un giorno triste, ha affermato il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, la sanità ligure perde uno dei suoi pilastri e una delle sue migliori guide, mentre tutti noi perdiamo una persona speciale, sempre disponibile e allegra, con un'immensa dedizione verso l'ospedale che dirigeva.